E poi la tapina di Ivanov, 4-2 Avellino, buon lancio lungo di Bulleri per la scacciata di Daniele Magro. E Rayer che deve assolutamente approfittare delle ammenzie difensive di Avellino che non... Ivanov, 4-4 il punteggio contro Magro, penetrazione, ottima difesa di Magro che contesta anche il pallone e lo recupera. Ritorna avanti da Scandone, 7-6 Bulleri, attenzione alla pressione a tutto campo dei bianco-verdi Irpini. Ubalek mette palla a terra, schiacciata di Magro, fallo e vale. E certo la Rayer non si fa fregare in campo aperto. Anche Ubalek e Magro, due lunghi capaci di correre e di finalizzare. Ottimi inizi di attacco per Daniele Magro. Rayer rimessa da Rosselli a Bulleri. 5-55 il termine del secondo quarto. Incrocio e scarico di Rosselli per Magro. Altra perla di Guido Rosselli e Magro attentissimo a seguire il movimento del compagno. Ricomincia l'azione di Avellino. Hardy va a sbattere su Magro. Cantano e hanno ragione di farlo i tifosi della curva oro-granata. La partita piacevole nella gara, nel migliore dei modi. Tenendo saldamente in mano il pallino del gioco.